100 edifici senza lacci fognari scaricavano nel foglia ancora sangue sulle strade padre figlio muoiono in a 14 marche pride un'onda arcobaleno ha travolto pesaro non solo centro e mare tante iniziative culturali nei quartieri di pesaro sport sofia raffaeli regina d'europa della ritmica buona serata a tutti voi amici telespettatori e amiche telespettatrici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo spazio informativo della nostra emittente ben ritrovati a rossini news primo telegiornale della settimana lunedì 20 di giugno notiziario che apriamo occupandoci con una con i risultati di una complessa indagine di polizia ambientale durata due anni e portata avanti dalla guardia costiera di pesaro che ha scoperto degli scarichi abusivi sul foglia relativi a un centinaio di edifici della città scarichi abusivi confluenti in mare e più di 100 edifici di pesaro non allacciati alla rete fognaria e questa la scoperta risultante da due anni di indagini di polizia ambientale della guardia costiera di pesaro una scoperta che si è tradotta in sequestri penali frutto del costante coordinamento d'azione fra la capitaneria e la procura della repubblica del tribunale di pesaro procuratore cristina tedeschini che assieme al comandante della capitaneria barbara magro ha presentato oggi un biegno di indagine che anche attraverso decine di sopralluoghi aerei ha fatto emergere numerosi collettori di acqua e refle urbane che si mettevano in corpi idrici superficiali collegati al mare ma senza il necessario trattamento preventivo di depurazione l'area maggiormente attenzionata è stata il segmento di 10 chilometri del foglia in prossimità della foce l'indagine si avvalsa di ripetuti campionamenti delle acque da parte dell'ARPAM e ha fatto emergere il superamento di valori limite previsti per alcune sostanze ma soprattutto ha fatto affiorare una complessa vicenda amministrativa partorita nel 2012 con il rilascio di autorizzazioni che infrangevano diverse direttive sono partiti sequestri delle aree inquinate ed elevate sanzioni per centinaia di migliaia di euro è un'attività questa che ha avuto origine con il sorvolo di un elicottero sostanzialmente noi periodicamente prevediamo un monitoraggio delle nostre coste con mezzi aerei che usano strumentazione dedicata in particolare con attività di telerilevamento è stata verificata la presenza di situazioni di inquinamento che sono state poi verificate a terra da lì abbiamo risalito numerosi scarichi come è stato spiegato in conferenza circa un'ottantina di scarichi e sono state verificate anche documentalmente le cause dell'inquinamento coinvolto il comune di pesaro che laddove sia stato verificato che l'inquinamento derivava dal mancato allaccio di unità abitative provvedeva a emettere le relative ordinanze e l'ottanta per cento delle quali hanno trovato adempimento quindi importanti sono anche proprio i risultati e le ricadute positive di questa attività dalle indagini di polizia giudiziaria si è poi passata la bonifica dei siti inquinati con alcuni scarichi non depurati che sono stati intercettati e convogliati nel depuratore di borgeria operazioni di polizia ambientale che hanno tra l'altro permesso anche di riqualificare 30.000 metri quadrati sempre a ridosso del foglia fra Pesaro e Montelabate in cui sono stati abbandonati rifiuti di vario genere, Eternit compreso aree di terreno bonificate e riportate a uno stato buono acque che sono state protette perché sono cessati e sono stati rimossi gli scarichi abusivi sono stati bonificati gli scarichi che dovevano andare gestiti in altro modo e quindi il risultato concreto è un'acqua del fiume migliore, un'acqua del mare migliore e io spero in qualche maniera all'esito di questa comunicazione anche, un risultato potrebbe essere una maggiore consapevolezza dei cittadini che le varie autorità lavorano spesso in grande armonia e ognuno portando il proprio contributo per migliorare la loro vita e non soltanto per opprimerla come invece a volte sembra essere percepito. Periodo davvero terribile per gli incidenti che stanno allungando il conto dei morti su strada nel nostro territorio. Eri mattina sull'autostrada A14 all'altezza di Marotta hanno perso la vita Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio rispettivamente di 57 e 32 anni. Campani d'origine ma da tempo residenti e radicati a Fano, i due lavoravano nel settore della nautica. Ieri attorno alle 7.30 di mattina si stavano dirigendo verso Senigallia a bordo di una Lancia Y quando sono stati urtati per cause da chiarire da una Toyota Yaris guidata da una ragazza. La Lancia Y si è capottata e padre e figlio sono morti sul colpo, sbalzati fuori dall'abitacolo. Con gli Ascione era presente anche un collaboratore trentenne che si è salvato ma che è stato trasportato in codice rosso in elieambulanza assieme alla conducente della Yaris ricoverati alle torrette di Ancona. E appena venerdì scorso vi avevamo raccontato della morte di Ali Arshad, 32enne pakistano, travolto in bicicletta all'alba mentre si recava al lavoro in zona Borgo Santa Maria. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad altri tre incidenti stradali avvenuti sabato nell'arco di mezz'ora nella stessa frazione di Borgo Santa Maria e precisamente in strada Montefeltro. Uno davanti al vivaio, un altro incidente in prossimità dell'istitutore Kuwait e uno all'altezza della pica. Nelle occasioni sono intervenute le ambulanze per tre codici gialli senza feriti gravi ma il comitato di cittadini Borgo Santa Maria continua a porre l'accento sulla pericolosità di questa strada come già sottolineato più volte nei nostri spazi informativi. E cambiamo argomento e nel prossimo servizio andiamo a rivivere le immagini del Marche Pride che si è tenuto a Pesaro per la prima volta sabato con grande successo di partecipazione. Dalla palla di Pomodoro a Baia Flaminia, un'ondata arcobaleno ha travolto sabato il lungomare di Pesaro che ha ospitato il suo primo Marche Pride. La festa dell'orgoglio LGBTQ è un passo deciso contro ogni discriminazione sessuale o di genere. Un corteo da circa 3.000 persone all'insegna di slogan, striscioni, tanto colore, messaggi importanti e zero problemi di ordine pubblico. Corteo che ha visto solidarizzare tanti pesaresi, politici compresi, per la soddisfazione degli organizzatori che pensano a Pesaro e Fano come base per altre iniziative. Più che gratificato della giornata lo stesso sindaco Matteo Ricci. Grazie per aver colorato la nostra Pesaro, grazie per averci scelto nelle Marche e noi vi abbiamo accolto a braccia aperte. Grazie anche per aver capito, aver fatto capire attraverso questo corteo gioioso, pieno di vita, a coloro che vi guardavano, ci guardavano con diffidenza. Che cos'è questo movimento? È un movimento che si batte per la libertà e per l'uguaglianza. La libertà di essere se stessi, di vivere l'amore ognuno come ritiene e di non doversi nascondere, di viverlo alla luce del sole. La libertà di non sentirsi giudicati, di non divertirsi denigrati, la libertà di essere esattamente e di vivere esattamente come tutti gli altri. Dobbiamo fare molti passi avanti, ancora, contro i pregiudizi che purtroppo vivono nella società. Ma oggi abbiamo dimostrato, grazie, avete dimostrato, grazie alle migliaia di giovani e giovanissimi, che le nuove generazioni sono più avanti del resto della società. E sono più avanti anche di un pezzo importante della politica, che spero abbia guardato questo corteo, abbia ascoltato i messaggi che arrivano e che magari prenda maggiore coraggio nel difendere proposte di legge che vogliono soltanto contrastare l'odio, contrastare i pregiudizi. Ed è un'estate di tante iniziative culturali a Pesaro, ma non solo nel cuore della città. Tanta è infatti l'offerta di quartieri, come ci ricorda la proposta di Pesaro, i tuoi spazi tra borghi e quartieri, che è stata presentata questa mattina. Più di 90 eventi, tutto è ingresso gratuito per Pesaro, i tuoi spazi tra borghi e quartieri. Dal 20 giugno al 21 settembre torna per la quarta edizione la proposta del Comune di Pesaro volta a valorizzare i quartieri e l'intero territorio comunale attraverso la cultura. Letture per grandi e bambini, burattini, teatro di strada, musica e tanto altro per un progetto che coinvolge tutte le età e che è stato realizzato in collaborazione con Amat e Pesaro Segreta. Questa iniziativa sparsa nei quartieri e nei borghi nasce da prima, nasce dal 2019, quando abbiamo voluto mettere un'attenzione nuova e specifica in questo nuovo mandato, in tutto quello che accade o che si poteva far accadere nei borghi e nei quartieri della città che rappresentano una grandissima vivacità culturale, non solo ma anche paese logistica e spesso anche monumentale. Quindi letture, teatro per ragazzi, laboratori, tutto quello che contribuisce anche con la partecipazione dei quartieri che producono loro contenuti, ne chiedono altri, insomma collaborano tra loro anche in delle produzioni, tiene assieme non solo la cultura ma la sala dei quartieri, quello ai borghi e anche la presidenza del Consiglio Cunale che partecipa su specifici progetti. Sono decine di serate, in genere cerchiamo di non stare nel weekend che è già abbastanza compresso anche di eventi in centro ma per poter vivere proprio il proprio quartiere in maniera partecipata, a misura di famiglia e anche dare spazio attraverso questo a artisti e creativi del territorio che è una delle finalità per un'estate non alternativa ma assolutamente integrata con la programmazione dei grandi festival. Nelle weekend appena trascorso alla Lido di Fano si è tenuto il Boomerang Rewind Festival con un suggestivo sguardo agli anni 80 e 90 in compagnia di ospiti come i cantanti Alberto Camerini e Viola Valentina ma anche delle campioni del mondo di calcio dell'Italia del 1982 Spillo Altobelli intervistato in questa occasione dal nostro Antonio Astuti assieme anche all'assessore del turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli. Siamo con l'assessore Etienne Lucarelli è venuto anche lui a salutare questa bella manifestazione fanese Boomerang Rewind Festival anni 80 e 90 l'abbiamo detto e abbiamo anche la fortuna di avere una delle icone degli anni 80 Sandro Altobelli, assessore, lei è interista? Sì, sono interista, sono un grande appassionato di calcio devo dire che dopo due anni di pandemia questi ragazzi che hanno ripreso con forza questo bellissimo festival e che quindi un grande movimento nella città di Fano è già di per sé molto bello ma avere qua insomma persone che hanno fatto la storia dell'Italia in questo caso del calcio italiano poi per me che insomma in quegli anni avevo otto anni e ho vissuto la vittoria ai mondiali con mio padre che mi portava in giro per la città di Fano fuori dal finestrino con la bandiera dell'Italia e poi da interista ho vissuto la vittoria degli scudenti insomma esultando sul nome di Altobelli oggi avere qua un'icona come Altobelli nella città di Fano è per noi un onore quindi gli diamo un grande benvenuto ha rappresentato l'Italia nel mondo in modo eccezionale e quindi è un grande onore per noi oggi averlo qui a Fano Altobelli, lei quando avete vinto quel mondiale si rendeva conto? avevate la consapevolezza di quello che avrebbe portato negli anni persone a ricordare davvero per 40 anni ciò che era successo quella notte? no assolutamente no allora noi eravamo via da un mese dall'Italia perché avevamo fatto la preparazione poi eravamo in Spagna quindi non c'era la televisione che c'era oggi non vedevamo quello che succedeva in Italia ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto quando siamo tornati in Italia è venuto Pertini il Presidente della Repubblica a prenderci a Madrid con l'aereo personale siamo tornati tutti insieme siamo atterrati a Ciampino a Roma l'aeroporto era pieno di gente e tutte con le bandiere da Ciampino fino al Quirinale la strada di qua e di là c'era tutta gente con le bandiere la vera emozione è stata quella è stata quella e lì abbiamo capito cosa avevamo fatto Assessore comunque una manifestazione riuscita si inserisce nell'ambito di un'estate fanese davvero all'altezza sì veramente l'estate è molto ricca sono contento non era facile concepire una programmazione così importante come quella che abbiamo fatto ma la città di Fanno ha un DNA molto creativo quindi insomma ecco abbiamo questa sensazione di essere liberi dal Covid speriamo che effettivamente sia così e insomma tutti hanno cominciato a pensare di rappresentare al meglio quelle che sono le caratteristiche della nostra città che guardano alla storia, all'enogastronomia alla qualità della vita in genere tra l'altro molti colleghi di Altobello sono venuti a presentare qui libri a passaggi perché insomma è un festival che parla un po' di tutto è molto popolare quindi veramente una bella stagione ma soprattutto la gente ha voglia di ripartire ha voglia di uscire farlo con un modo anche un po' diverso rispetto a prima cerca più tranquillità cerca il buon cibo e il nostro territorio che ha queste colline che arrivano direttamente sul mare un bel mare direi anche un territorio adatto ad accogliere quindi ci aspetta una stagione importante e ciò che volevamo per ripartire mercoledì 22 giugno la biblioteca San Giovanni di Pesaro compirà 20 anni un compleanno davvero significativo per uno dei simboli di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 è un compleanno che sarà festeggiato con due giorni il 22 e 24 giugno di iniziative all'insegna di libri e letture da condividere con la città saranno proprio dei lettori di diversa età a leggere a voce alta storie e brani di tutti i tipi per un pubblico di grandi e di bambini domani martedì 21 giugno in occasione della festa europea della musica si terrà il gran concerto notte di note a Montecchio dove sul palco di piazza della repubblica dalle 21 si esibirà l'orchestra incontro dell'istituto comprensivo Pian del Bruscolo il piccolo ensemble dell'Accademia di Stretto della Musica e il corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo e invece venerdì 1 luglio a Villa Berloni è previsto un concerto tributo ai Genesis dei Getem Out Foxtrot 50esimo anniversario un appuntamento che sarà preceduto venerdì 24 giugno alle 17.30 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro dalla presenza di Mario Giammetti autore di diverse pubblicazioni sulla band inglese sarà una conversazione in compagnia dei giornalisti Claudio Salvi e del nostro Paolo Pagnini su una band diventata leggenda come i Genesis proprio nel 50esimo anniversario dell'esibizione al vecchio palazzetto di Pesaro da parte della band inglese nell'aprile del 1972 interverranno nell'occasione anche Riccardo Gravagni e Mare Sgaldenzi dell'Associazione Culturale Lanfora e Edoardo Mensitieri Presidente dell'Associazione Culturale 70 Mood Ed ora passiamo allo sport giovedì 23 giugno alle 20.30 è in programma gara 2 della finale Scudetto di Calcio 5 per l'Ital Service dopo la sfortunata gara 1 di Eboli tenutasi sabato in cui la squadra pesarese ha perso dopo i calci di rigore in campagna è andata in scena una partita trascinata a lungo sullo 0-0 fino al 37esimo quando Trentin ha segnato il punto dell'1-0 per Eboli Colini poi ha inserito il portiere di movimento e la mossa ha fruttato un rigore che Cuzzolino col sinistro ha trasformato nell'1-1 in favore dei pesaresi 1-1 che è stato il punteggio finale nei tempi regolamentari e che si è mantenuto tale anche all'extra time fino ai calci di rigore dove questa volta Cuzzolino ha sbagliato in un errore che è diventato decisivo per l'1-0 di Eboli nella serie di finale Scudetto giovedì dunque al Palafiera ci vorrà la migliore ital service per vincere e trascinare la finale Scudetto a gara 2 ovvero alla bella prevista il prossimo sabato e dal calcio 5 al basket perché è davvero questione di giorni l'ufficialità del ritorno di Yasmin Repice sulla panchina della Carpegna Prosciutto Basket Pesero il CDA della Vuela è infatti deciso per il ritorno del Croato come successore di Luca Banchi dopo l'addio non senza polemiche verso sponda fortitudo di un anno fa ultimi dettagli in settimana dovrebbe essere ufficializzato il ritorno dell'allenatore che ha portato la Vuel alla finale di Coppa Italia di due stagioni fa due ori e un argento agli europei di Tel Aviv mai nessuna italiana aveva conseguito un simile risultato nella ginnastica ritmica parliamo della marchigiana diciottenne Sofia Raffaelli che Pesero aveva applaudito appena due settimane fa alla World Cup di ginnastica ritmica alla Vitri Frigo Arena il servizio l'avevamo vista a Pesero appena due settimane fa primeggiare nella World Cup di ginnastica ritmica conquistando un risultato storico attraverso i titoli a cerchio palla clavette e nel concorso generale individuale questo weekend invece a Tel Aviv Sofia Raffaelli ha scritto la storia con la S maiuscola la diciottene di Chiaravalle porta colori della ginnastica Fabriano ha infatti vinto il titolo europeo alle clavette al cerchio conquistando l'argento alla palla mai un'italiana aveva raccolto titoli europei agli attrezzi ce l'ha fatta Sofia che due settimane fa ai microfoni di Marco Cadeddu commentava così il grande risultato di Pesero guardando con ambizione ai seguenti impegni internazionali sono molto orgogliosa di questo risultato e devo ringraziare comunque tutta l'Italia le mie allenatrici la società ginnastica Fabriano le Fiamme Oro e la federazione che mi ha dato questa opportunità magnifica abbiamo lavorato molto in questo ultimo periodo per cercare di migliorare sempre di più tutti e quattro gli esercizi e diciamo che ci siamo riusciti e c'è ancora molto lavoro da fare però è un buon inizio ecco i prossimi obiettivi quali sono Sofia? Avrò un europeo a breve partiremo tra una settimana e poi sicuramente i mondiali che verranno a settembre a Sofia Naturalmente il sogno è Parigi 20-24 Sì quello è il sogno principale E si conclude qui lo spazio informativo del nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 vi propone lo speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini in occasione della presentazione a Cagli dell'itinerario della Corte del Duca Federico si tratta di un altro degli itinerari derivati dalla grande iniziativa di promozione culturale di Confcommercio itinerari della bellezza nella provincia di Pesaro e Urbino e poi vi ricordiamo anche Vox Pop la voce dei pesaresi il nostro format che va in onda come prima edizione tutti i venerdì ma poi ci sono le repliche alcune ci sono state anche ieri e sabato ma poi repliche anche a lunedì questa sera alle 23 e domani alle 11 di mattina e alle 17 argomento di questo Vox Pop è questo gli studenti pesaresi che salutano un anno scolastico segnato da dad e mascherine e vi ricordiamo anche che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7 e 20 in diretta con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino che per l'occasione domani sarà condotta dal nostro Antonio Astuti e come sempre vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV uno strumento utile per avere a portata di smartphone la possibilità di consultare facilmente le nostre notizie la nostra programmazione o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi